La cosa che mi è piaciuta di più di questo progetto è che possiamo avverdire tra virgolette i bagni che sono stati sporcati tra virgolette, con la nostra fantasia. In questo lavoro noi comunque ci siamo impegnati e abbiamo cercato di fare del nostro meglio per abbellire una cosa che comunque è pubblica. Sicuramente le idee che sono uscite lavorando, cioè lavorando si sono tornate delle idee che magari non ci si aspettava. Faire collaborazioni tra le classi. Stare tutti insieme in compagnia. A me è piaciuto molto lavorare insieme. A me mi sono piaciuti soprattutto i disegni. A me mi è piaciuto quando abbiamo fatto dei disegni. Mi è piaciuta l'idea di abbellire i bagni. Devi tarci a vicenda tra le classi. Tu fare dell'ultimo e fare nostro meglio. Abbiamo disegnato il potere della musica, perché a noi ci avevano dato un tema che era il potere e noi dovevamo inventare dei disegni che rispettassero quel tema. Disegnare tutti assieme con un'idea per migliorare la scuola. A me è piaciuto disegnare. Io ho disegnato un pugno. Rimodernizzare i bagni e dare l'opportunità a quelli che hanno dappurino di avere una scuola più bella. A me mi è piaciuto tutto, ma la cosa che mi ha disegnato principalmente è mischiare i più disegni. A me è piaciuto giocare con le parole. A questo progetto mi è piaciuto scegliere tra tutti i 200 disegni. Mi è piaciuto riuscire a trovare le idee per i disegni in base all'argomento che era il potere. A me è piaciuto disegnare e aprire i bagni. A me è piaciuto moltissimo disegnare. Disegnare, stare con i miei amici e confrontarsi. Una cosa che mi ha colpito del progetto è rendere una scuola più allegra. A me è piaciuto tutto in generale. Questo progetto a me è piaciuto perché i bagni in effetti non è che sono bellissimi. Però facendo questa cosa ci divertiamo e poi riusciamo a migliorare ancora di più la nostra scuola. A me è piaciuto tutto in generale. A me è piaciuto tutto in generale.